A una bella buongiorno! Oggi mi sono svegliato con una voglia di mozzarella di bufala, di quelle che mi esce dalle orecchie proprio! Aprete i mozzarella! Sì, una buona bella! Guardala come è bella! Ti faccio mangiare la mozzarella mai vista al mondo, di bufala, fresca, vista la... Se non vuoi la mozzarella ti posso dare un pecorino di nostra produzione, un pecorino che sente la pecora dentro! Questo è proprio quando la morte fa un beee! Oppure ti posso dare una bella ricotta essiccata da grattugiare sulla pasta, oppure la ricotta calda di stamattina, tenera tenera, che appare a un burro! Guardala quanto è bella, guarda! Abbiamo il caciocavallo di bufala cartufato! Hai detto niente! Cartufo del pollino! Si, mangiare proprio qua, guarda! E qual è il problema? Pronto? Il nostro bellissimo aperitivo, sia a pranzo che a cena! Mamma mia! Mamma mia! Io sono pronto! Allattami! Sì, riteli papà, ora ti allaccio qui! Ecco a te, con il resto, grazie! Grazie Gene, alla prossima! Mi raccomanda, sempre in carica! Goodbye, my friend, goodbye! Cante pura!